Gentili telespettatori, buona giornata. E così Maurizio Landini, il capo della CGL, va da Floris e ripete sempre le stesse cose. Perché ripete sempre le stesse cose? Beh, Landini, sto cercando le parole, Landini diciamo, se voi guardate il suo curriculum vitae, e lo trovate in internet, quello che ha fatto, quello che non ha fatto, eccetera, eccetera, vi renderete conto che non è che può fare chissà quali grandi proposte per quanto riguarda l'economia, anche perché Landini non ha le basi e le conoscenze tali da poter avere diverse proposte sull'economia. Quindi lui ripete sempre la stessa cosa, cioè serve la patrimoniale. Eh sì, chi non ha conoscenze di economia, chi non ha fatto studi economici, gli dicono, guarda, la patrimoniale, tu continui a ripetere la patrimoniale perché non sapresti neanche da che parte girarti per una soluzione diversa. E quindi va da Floris a dire che con una patrimoniale si avrebbero più entrate con cui poter abbassare le tasse. Caspita, questa è una riflessione che a dir poco geniale, a dir poco veramente eccezionale, sembra quasi Di Maio quando dal balcone di Palazzo Chigi, raggiante, diceva di aver sconfitto la povertà avendo approvato il reddito di cittadinanza. Ecco, invece poi la povertà è aumentata. E così arriva Landini che tira fuori la sua soluzione per avere il premio Nobel il prossimo anno. Tu tassi, la patrimoniale sono delle tasse, tu tassi quelli che hanno più soldi in modo che poi hai i soldi per abbassare le tasse. Ecco, una soluzione a dir poco geniale. Tassi ricchi per abbassare le tasse. Una patrimoniale. Dite a Landini che in Italia ci sono già dieci patrimoniali che ogni anno si pagano e portano nelle casse dello Stato un qualcosa come 50 miliardi di euro. L'altro giorno avevo fatto un video dove avevo elencato tutte queste tasse. E lui è fermo alle ricette economiche della sinistra di una volta. Dice mancano i soldi e metti una tassa e voi li trovati. Ecco, poi con quei soldi ci abbassi le tasse. Aumenti le tasse con una patrimoniale, prendi questi soldi e ci abbassi le tasse. Lui vorrebbe accanirsi sui patrimoni privati con l'illusione di stabilire così una maggiore equità sociale. Però, caro Maurizio, quei patrimoni privati, consistenti, sono stati fatti pagando una valanga di tasse. Se un'azienda fattura 10 milioni e gliene rimane, se è fortunata, uno, perché 9 milioni sono tra spese e tasse, rimane un milione a questo imprenditore che se lo mette da parte. Dopo che ha fatturato 10 e gliene rimasto uno, pagando il 60% di tasse, pagando il materiale, le materie prime, eccetera. Quindi, questo milione che gli rimane, poi arriva un Landini, arriva una Schlein che dice Ah sì, hai un milione, è bravo, ma non ti vergogni ad avere un milione. Ma c'è gente che non arriva a fine mese e te c'hai un milione, in un anno. E non ti vergogni neanche un po'. Quindi questo signore o questa signora dovrebbe prima di tutto vergognarsi per aver avuto un milione di rendita netta. Ricordiamoci che questo signore che dovrebbe vergognarsi per la sinistra è uno o una che ha dato lavoro, che dà lavoro a un imprenditore e che per fatturare quei 10 milioni e gli rimane neanche uno ha dato lavoro a un certo numero di persone, ma diventa un nemico. Ecco, quello che crea lavoro, che fa impresa, che ha degli utili e ha dei guadagni personali per la sua impresa, diventa uno che si dovrebbe vergognare. Ma non ti vergogni con tutti quei soldi lì, ma vergognati. Allora arrivano poi questi personaggi, e vi invito poi a vedere i loro curriculum, così capite tante cose, arrivano questi personaggi con le loro ricette economiche, dicendo Ah, tu c'hai tutti quei soldi? Eh, ma allora me ne devi dare un po' di quei soldi? Eh, scusa, bisogna redistribuire, equità sociale, c'è chi non ha i soldi per mangiare. Ma mettetevi nei panni di questo imprenditore che ha rischiato, perché rischi facendo l'imprenditore di finire in mezzo a una strada, ha rischiato giorno dopo giorno, un imprenditore lavora 20 ore al giorno, anche di notte lavora, non finisce mai, i pensieri non ti abbandonano mai, lavora, 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 ha un rischio di impresa altissimo, paga una valanga di tasse, e poi ti arriva un landini, da flori, sa dire la patrimoniale, equità, tutti questi soldi, ma chi ha tanto deve aiutare gli altri. Ma non vi sembra che questo signore, creando l'impresa e dando lavoro, non abbia anche, non è che fai impresa per aiutare gli altri, ma facendo impresa hai anche aiutato decine di famiglie, dando un lavoro, deve poi vergognarsi e deve arrivare uno di sinistra che vuole togliergli da quel milione che gli rimane altri soldi, perché visto che lui ne ha fatti tanti bisogna toglierglieli, mi capite che io non sono né un imprenditore da tutti quei milioni, ci mancherebbe altro magari, però non si può essere invidiosi di chi ha fatto gli sordi, non si può ragionare così, se uno già paga in Italia e ha una tassazione esorbitante, allora se noi tutti pagassimo l'8%, 9%, 10% di tasse massimo come ad Andorra, se voi guardate Andorra è una sorta di paradiso fiscale, se tu sposti la residenza lì e vai a vivere lì almeno 6 mesi all'anno paghi tra l'8% e il 10% massimo di tasse, tra l'8% e il 10%, allora se veramente tu fai un sacco di soldi magari il governo ti può dire senti, al posto che il 10% perché non paghi l'11%, quell'1% in più aiuti gli altri, tu che sei un grande imprenditore, allora messa così va bene, ma quando uno paga il 70% fra tutti i tipi di tasse che deve pagare, il 70% e quello che gli rimane, gli vuoi ancora altri soldi, capite che non regge questo modo di approccio. Arrivederci a tutti e grazie.